Ciao a tutti! Nuovo video delle scoperte del periodo perché siamo quasi a fine mese, questo mese sono un pochettino in ritardo però volevo mostrarvi tutti i prodotti che come al solito mi sono piaciuti di più nelle prime settimane del mese e questa volta ho sia scoperte proprio nuove totalmente che riscoperte, quindi prodotti che già usavo e che ho ripescato Iniziamo dalle tre scoperte di MAC La prima è quella che indosso in questo momento ed è questo rossetto che si chiama MAC Red è un bellissimo rosso con un sottotono secondo me leggermente freddo quindi mi fa tantissimo i denti bianchi ma ancora più bianchi di quello che sono normalmente quasi a livello del Ruby Woo secondo me, nel senso che anche l'altro mi fa questi denti bianchissimi cosa che invece non mi succede con il Russian Red Ormai li ho tutti e tre però questo qui mi sta piacendo tantissimo l'avevo comprato a Torino un giorno che non stavo neanche vloggando forse è per quello che non credo di avervelo mai mostrato in nessun video l'ho indossato forse in un paio di altri vlog, comunque me l'avete già visto mettere questo fa parte dei finish saten che sono i miei preferiti insieme ai matte e a ritro matte questi però li trovo più confortevoli da stendere rispetto agli altri due finish e l'effetto è quello che voglio io quindi è un opaco ma non che mi secca le labbra cioè per mettere gli altri tipo il Ruby Woo ci metto una vita devo proprio stare lì a impegnarmi questo è abbastanza scorrevole e si fissa bene una riscoperta invece sempre di MAC è stato questo ossia l'eyeliner in gel il Black Track che usavo anche tempo fa però poi l'avevo terminato e non l'avevo più ricomprato il giorno che ho comprato il Rush Red già che ero in negozio ho anche ripreso lui perché io lo adoro soprattutto con il pennellino mi pare che sia il 207 però poi ve lo scrivo perché non sono sicura comunque mi piace tantissimo, fa una bellissima riga rimane molto molto nera e per me che non sono bravissima a mettermi l'eyeliner questo tipo di prodotti sono fantastici lo uso sia da solo che per andare a passare sulla riga di eyeliner magari già fatta con quello in penna in modo che poi vado semplicemente ad allungare la codina e a rendere ancora più intenso il colore e poi la cosa fighissima di questo qui è che si può mettere anche nella rima inferiore perlomeno io ho gli occhi super sensibili quindi di solito cerco di usare prodotti adatti solo a quello specifico utilizzo con questo qui anche mettendolo nella rima inferiore non ho mai avuto problemi e se non ne ho io secondo me è perché veramente è molto adatto all'occhio non è aggressivo perciò questo qui è una super riscoperta e penso che me lo vedete anche nominare nei preferiti e sempre MAC un'altra scoperta del mese è stata questa matita per le sopracciglia che fa parte della stessa linea della lingering quindi la mia matita con cui vi faccio una testa così da tempo quindi di quelle automatiche che si ruotano ma non sono retraibili queste sono solo estraibili se mai riuscirò a trovare una matita che non finisce così in fretta sarà una gran conquista però veramente questa mixata con la lingering sta benissimo sulle mie sopracciglia si chiama spiked e va benissimo col mio colore di capelli attuale appunto mixando le due perché non voglio comunque fare le sopracciglia troppo scure nonostante i capelli scuri ma perché trovo che se no mi induriscano tantissimo i tratti ma me l'avevate detto anche voi questa con l'altra è perfetta per le ciglia invece ho scoperto questo primer che è il primer di Benefit il Tinted Primer di Arial l'ho acquistato da Sephora e ne sono rimasta entusiasta soprattutto mettendolo in combo con il Better Than Sex di Too Faced quindi uso questo sotto poi vado a mettere sopra il Better Than Sex e mi fa un effetto che è veramente effetto ciglia finte ma proprio è pauroso è veramente bellissimo devo ricordarmi di farvelo vedere in un vlog perché lo applico principalmente la sera questo qui piuttosto che durante il giorno perché l'effetto è veramente molto molto costruito sulle mie ciglia quindi magari per tutti i giorni è un po' eccessivo però per le occasioni speciali è veramente un prodotto che mi piace tantissimo lo scovolino è uguale a quello del D.A.R.I.E.L. semplicemente questo qui è marrone usato da solo non mi fa impazzire sinceramente cioè è proprio un primer se lo usate come fosse un mascara non è performante allo stesso modo questo mese ho una scoperta anche per quanto riguarda il viso e si tratta di questa crema che è di Dermolab in realtà è una linea di Deborah per il viso quindi per la skin care ho ricevuto un pochettino di prodotti e ve li avevo mostrati in un vlog se non sbaglio mi pare che fosse arrivato il corriere proprio il giorno che vloggavo e la cosa che mi ha attirata di più che comunque ho iniziato subito a utilizzare perché non ne avevo aperte in quel momento è questa maschera idratante antifatica viso e questa è veramente super 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 idratante ed è perfetta secondo me per questa stagione perché comunque ho la pelle super secca e super messa alla prova dalle intemperie quindi fare una maschera di questo tipo che va a nutrire tantissimo la pelle poi non ce ne vuole tanta perché è molto nutriente è molto consistente perciò non bisogna applicarla una grande quantità però ho notato che facendola due volte a settimana tutta la parte qua che era secchissima le parti in cui, le zone anzi in cui mi stava venendo la dermatite sono molto più attenuate non ho più quei rossori la mattina quando mi sveglio e credo sia merito della maschera perché io non ho cambiato nient'altro nella mia skin care routine quindi in teoria posso dare il merito a questa ovviamente è sempre un video delle scoperte quindi è una prima impressione dopo due settimane due settimane e mezzo di utilizzo credo di averla fatta sei volte già ho sette e per ora mi sembra che sia un ottimo prodotto sicuramente andrà benissimo anche per la primavera perché con le prime diciamo abbronzature col fatto che il sole mi secca tantissimo la pelle è un prodotto che continuerò ad usare poi nel caso cambiassi idea lo vedrete nei bocciati o comunque ve ne parlerò in altri video ho una scoperta anche per quanto riguarda il corpo e in particolare le gambe si tratta di questa crema che è la crema gel effetto urto contro gli anestetismi della cellulite resistente della geomar ho anche quella effetto freddo però non è ancora il momento di utilizzarla quella è perfetta e fantastica in estate questa qui ho ricominciato ad utilizzarla perché ho ricominciato a fare i fanghi insomma sta cercando di risistemare la situazione gambe eccetera in vista della primavera e soprattutto dell'estate perciò ho riscoperto questa crema mi piace un sacco soprattutto perché mi lascia la pelle molto idratata e la vedo otticamente più compatta non so se è un effetto placebo però mi ricordo che anche l'anno scorso la utilizzavo tantissimo infatti ne avevo ricomprate due o tre addirittura una cosa del genere in estate perciò ho cominciato a prevenire a utilizzarla già adesso in modo tale da non farmi trovare impreparata appena arriva il caldo questa la applico tutte le sere dopo aver fatto la doccia la massaggio in modo che si assorba bene l'unica cosa è appunto star lì a massaggiarla che magari uno non ha tantissimo tempo però cerco di ritagliarmi quei 10 minuti 15 dopo la doccia e di farlo con costanza sicuramente non fa i miracoli però appunto già solo vedere la pelle più tonica per me è un gran risultato e sono contenta quindi diciamo che vedere dei risultati anche così nel breve termine mi aiuta ad avere più voglia di utilizzarla quando vi ho fatto vedere la matita per le sopracciglia mi sono dimenticata di un'altra scoperta sempre per le sopracciglia questa qui è l'eyebrow pencil di Debbie e praticamente è la matita per le sopracciglia però completamente fatta di cera quindi è quella che serve per andare a fissare una volta che si sono disegnate le sopracciglia e questo prodotto mi è piaciuto tantissimo molto di più di quello di Essence che è molto simile nel senso che è sempre una matita con la cera ma questo mi è piaciuto di più perché ha la punta molto più larga e quindi quando andate a ritoccare a rifinire a disegnare le sopracciglia mi aiuta soprattutto in questa parte a fare un effetto più naturale quella di Essence la dovevo ripassare un sacco di volte e tendeva a strapparmi le sopracciglia una cosa che già non ne ho perché io veramente non ne ho se in più la matita me le strappa siamo messi male con questa non mi succede infatti mi piace tantissimo questo mese ho un'altra scoperta per la skin care però in questo caso riguarda gli occhi ed è questa crema di Benefit che è la It's Potent Eye Cream non ricordo questa qui se l'avevo già provata anni fa mi sembra di sì in una mini size ma non mi era piaciuta per niente quando sono stata da Sephora a comprare il primer l'ho vista lì nello stand e ho detto vabbè diamole un'altra possibilità e riproviamola e devo dire che la sto applicando da circa due settimane una decina di giorni ovvio non fa i miracoli come non mi succede mai con nessuna crema occhi però abbinandola in combo al siero di la vera devo dire che sto avendo dei risultati che secondo me sono veramente buoni soprattutto per quest'occhio che è quello più problematico per me dove ho sia le borse che le occhiaie più pronunciate ovviamente appunto non si possono avere i miracoli però la pelle è molto più idratata è meno secca anche il correttore ne devo mettere meno quindi secondo me è merito sia di questa che di quella di la vera che vi avevo già mostrato o in un vlog o comunque in un video dei preferiti forse l'altra volta non mi era piaciuta perché la utilizzavo da sola e magari da mi stava anche cadendo però magari da sola non era abbastanza consistente per il mio problema invece utilizzata in combo la trovo ottima ultima scoperta di oggi è una scoperta per le labbra ed è questo prodotto di Deborah che è l'Absolute Last Lasting Liquid Lipstick nel numero questo qui è il 14 dovrebbe essere sì questo qui lo indossavo nel video della Posty Challenge e mi avete chiesto dappertutto su Instagram su Facebook nei messaggi privati ovunque mi avete chiesto notizie su cosa indossassi in quel video era semplicemente questo rossetto però uso solo la parte opaca quindi la parte del rossetto io non uso mai il gloss idratante se proprio proprio mi secca le labbra vado a metterci il burro cacao mi piace tantissimo mi piace sia questa che quella rossa che sono le due che ho usato di più ultimamente le altre sinceramente non ho ancora avuto modo di provarle però se sono valide come queste sicuramente le vedrete e me ne sentirete parlare soprattutto tra un po' perché ci sono dei colori molto belli per la primavera quindi mistero svelato era questo colore qui che è veramente bellissimo e questo va bene sia per l'autunno che per questa stagione ma sarà perfetto anche in primavera e niente queste erano tutte le mie scoperte del periodo del mese di febbraio fatemi sapere se vi va con un commento quali sono stati i prodotti che state testando voi se magari avete cambiato qualcosa nella vostra skin care anche in vista del cambio di temperatura di stagione quindi come al solito scambiamoci tutti i consigli tutte le opinioni qui sotto io vi mando un bacione e ci vediamo domani con il nuovo video ciao